Lavoriamo per ottenere pause umanitarie più lunghe e ci siamo dichiarati a favore di pause umanitarie fin dalla prima riunione del Consiglio Affari Esteri che si è svolta a Lussemburgo. Quindi chi non segue i dibattiti poi non può dire che noi non svolgiamo l'azione e i codardi non stanno certamente sui banchi di questo Governo. Forse i codardi stanno da qualche altra parte, onorevole Conte. Qui non c'è nessun codardo e la prego di utilizzare un linguaggio più consono da parte di un uomo che è stato Presidente del Consiglio. Cortesia, per cortesia, per cortesia, prego Ministro, signor Ministro, con proseguo. Ci siamo sempre battuti per pause umanitarie, cosa diversa dal cessato il fuoco. Finché Amassa ed Esbolla continuano a lanciare razzi contro Israele dimostrano di non volere la pace. Finché i terroristi usano gli ospedali come quartier generale, dimostrano di usare come scudi umani il popolo che pretendono di difendere.